Bene, grazie, grazie dei calorosi applausi, ora farò l'ultimo pezzo di questo piccolo intervento poi vi inviterò a fare un giro per questa bellissima cittadina perché ci sono altri artisti che vi aspettano e poi tra una mezz'oretta ritornate qui perché vi farò con tanto piacere altre valigie un po' diverse quindi per concludere non andate via che facciamo il tango argentino, musica maestro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti